Il problema è come lo cerchiamo di risolvere, penso che le mascherine saranno quasi necessarie. Potrebbe essere solo questione di un paio di giorni e poi anche a Padova potrebbe tornare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto nelle aree dove saranno allestiti i mercatini di Natale. Il sindaco Sergio Giordani, preoccupato per l'aumento dei contagi in città e provincia, incontrerà i vertici di azienda ospedaliera e usle durante il prossimo cospi in prefettura, previsto per martedì pomeriggio. Domani dovevo trovarmi con il dottor D'Abbè e il dottor Fortuna, l'azienda, il prefetto, convochiamo il cospi per fare dei ragionamenti in termini di sicurezza sanitaria. Non è difficile che imponiamo le mascherine. Sulla scia di Venezia, che ha già attivato l'ordinanza che impone l'uso delle mascherine all'aperto nei mercati e fieri di Natale, anche Padova potrebbe adottare una misura simile, visto che proprio sabato inizieranno le iniziative natalizie. Fino a 31-12 sicuramente. Vediamo l'evoluzione giorno in giorno. Adesso sta aumentando purtroppo. Questa è una cosa che francamente non mi aspettavo, però aumenta in maniera importante. Bisogna che ognuno di noi faccia il suo, il proprio. Non bisogna stare vicini, bisogna mantenere la mascherina. Moltissime persone, a parieri 0-100 ce l'hanno, molte persone. Dobbiamo far sì che tutti ce l'abbiano e mantenere di sicurezza. Ancora non si sa invece se il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica possa decidere su ulteriori restrizioni. Per quanto riguarda invece le manifestazioni No Green Pass, pronte a tornare ancora in piazza proprio martedì sera.